Musica Ricorda che nel 1982 sono andato in una discoteca io con la mia compagna di allora che poi la compagna di adesso esistono i 50 anni 81-82 si chiamava Odissea 2001 una grande discoteca andavo per rubare un po' le idee quegli anni facevo che di giochi discoteca di bruciati era una discoteca di bruciati tu i bruciati sai quello dei bruciati i bruciati erano da prima a l'ultima la sera lì sono andati a vedere c'era Bodile un po' dire con la sua famiglia che faceva un concerto della Madonna e dopo a un certo punto salì Minagen spettacolare e tu c'è in fondo Gianni Minà che si scrive perché si scrive era venuta la domenica sportiva mi ricordo per fare un servizio io lo portarono in discoteca e io ce li ia a servizio cantano questa canzone la domenica sportiva a la domenica sportiva e le halle women a la domenica sportiva i i i i i Grazie a tutti 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 Grazie a tutti